E così, come nella quasi totalità dei programmi che ha condotto, Bonolis ci ha abituati a grasse risate, momenti di grande ilarità e giochi costanti con coloro i quali si sono presentati di fronte a lui in studio. Come nelle interviste durante chi ha incastrato Peter Pan, o con concorrenti di diversa natura come in Ciao Darwin. E poi c'è avanti un altro, il format che in questi anni ha tenuto Paolo saldamente al centro dell'attenzione. L'ultimo gioco, quello dove bisogna dare la risposta sbagliata ad ogni domanda posta da Paolo, è di sicuro quello più importante dove i concorrenti in gara di fatto si giocano tutto. E così anche Bonolis si lascia prendere la mano. Durante una delle puntata più interessante, ad arrivare fino in fondo è stato Fabio. L'uomo, però, proprio all'ultima domanda ha dato una risposta sbagliata, in senso ovviamente lato. Brescia o Pescara, intitolato ad annunzio l'aeroporto di, Brescia, il botta è risposta tra conduttore e concorrente. Risposta che ovviamente ha portato ad una reazione negativa di Paolo, che dando un calcetto al tavolino con il pulsante posto in alto, ha lasciato pensare a Fabio di poter fare altrettanto. E così sono volati calci che Paolo ha dovuto placare per evitare di rompere il tutto, piano o, l'intervento del conduttore. Grazie.